68 persone che si trovavano a bordo di una barca a vela sono state soccorse dalla Guardia di Finanza a qualche miglio di distanza dalla costa di Le Castella di Isola Caporizzuto in provincia di Crotone. Si tratta di migranti di nazionalità afghane e pakistana, presumibilmente partiti dalla Turchia, che sono arrivati a ridosso dalle coste crotonesi senza essere intercettati. Appena avvistati da Le Castella, un mezzo navale della Guardia di Finanza è intervenuto per trainare l'imbarcazione nel porto della città. A bordo c'erano diversi nuclei familiari con 10 donne e 12 minori non accompagnati. Le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura di Crotone si sono svolte sotto la supervisione dell'ufficio immigrazione della questura. Anche in questa occasione i migranti sono stati quindi condotti dai mezzi della Croce Rossa italiana nel centro di accoglienza di Isola Caporizzuto per le procedure di identificazione per svolgere la quarantena anti-covid.